un saluto a tutti gli amici di smart world oggi vi parlo di xiaua il codice è il e352 perché ci sono tre modelli di xiaua diversi come capite dalla confezione cartonata color marrone chiaro da questa etichetta ancora più chiara è un prodotto che fa parte dell'ecosistema di xiaomi a parte dell'ecosistema di xiaomi perché perché è stato realizzato dal roborock ovvero la stessa azienda che ha realizzato quei due robot bianchi che tutti noi conosciamo come robot per la polizia realizzati appunto da xiaomi ma cosa c'è all'interno della confezione all'interno della confezione c'è ovviamente il robot ci sono dei una manciata di accessori sostitutivi ma soprattutto c'è la base di ricarica con spina italiana e questa è una grandissima novità molto molto apprezzata anche dal sottoscritto quindi base di ricarica con il cavo e poi una piastra per poter andare a inumidire un panno da passare in terra quindi sostanzialmente fa parte di quella schiera di prodotti che ha oltre alla funzionalità di pulizia anche quella di passare un panno umido non diciamo mai di passare non so bene quale altro tipo di prodotto per la pulizia perché alla fine è poco più onestamente di un panno umido io non sono molto favorevole a questo tipo di prodotti perché ho un grande tappeto in casa e tutti questi prodotti non riconoscono il tappeto e continuano a inumidire anche il tappeto che non è esattamente la scelta migliore vi faccio vedere così rapidamente il robot qui in mano a me è riconoscibilmente secondo me è un prodotto della famiglia xiaomi con tasto per l'avvio della pulizia tasto ritorno alla base questa piccola protuberanza qui che funziona da radar non ha le stesse tecnologie del robot rock di xiaomi infatti costa anche un pochino meno però comunque permette di mappare l'ambiente con tutta una serie di tecnologie lo fa un pochino più lentamente lo fa in modo leggermente meno preciso ma veramente poca poca roba il coperchio si apre così è molto grande la ciotola per lo sporco è in media un pochino più grande della media per i prodotti di questa categoria adesso tra l'altro mi sta parlando mi sta parlando in inglese qua dietro ci sono le due ventole da cui fuoriesce l'aria aspirata davanti abbiamo ovviamente la parte con tutti i sensori che è un bumper di protezione e poi sotto abbiamo ovviamente le due ruote la spazzola in questo caso singola il ruotino davanti e poi il rullo centrale che va ad aspirare lo sporco quindi c'è un rullo centrale con le spazzole quindi che invece è assente per esempio su prodotti un pochino più economici di questo è abbastanza basso non il più basso della categoria ma passa sostanzialmente sotto praticamente ogni immobile che io in casa alcuni invece un pochino più alti come anche il roborock non passa proprio ovunque una cosa che mi è piaciuta è la tenacia di questo prodotto questo prodotto non si ferma veramente davanti a nulla è il primo in assoluto per cui lo posso far pulire tutta la casa senza spostare niente un risultato simile aveva fatto solo il primo robot di xiaomi mentre invece il roborock per esempio nel mio caso si incastra in un paio di sgabelli ecco questo è abbastanza tenace invece da riuscire ad andare sostanzialmente ovunque in termini di potenza è equiparabile al secondo robot di xiaomi quindi molto bene anche il sistema per bagnare è simile anche se come vi ho detto io non sono un grandissimo fan di questo sistema quindi sostanzialmente ha le stesse prestazioni molto simili quantomeno a quel secondo robot di xiaomi quindi cosa cambia rispetto al secondo robot di xiaomi proprio come il robot xiaomi anche questo xiaua permette di essere controllato tramite l'applicazione mi home di xiaomi quindi fa parte di quello di quell'ecosistema lì si può far avviare il robot si può programmare la pulizia del robot gli si può dire di utilizzare più potenza quando passa sui tappeti gli si può dire di essere utilizzato solo in modalità di panno umido si può scegliere la potenza fra quattro livelli di potenza insomma sono sostanzialmente tutte le cose che avete sentito anche del modello di xiaomi in più proprio come quel modello lì fa una mappatura della casa che però è molto meno precisa e soprattutto c'è un disegno del robot su questa mappa che indica la posizione del robot all'interno della casa ma non vi fa vedere il percorso quindi non avete un'idea precisa di a che punto è per arrivare alla fine della pulizia ma mi ha veramente sorpreso perché nel mio caso ha pulito una casa di un centinaio di metri quadri ci ha messo circa un'ottantina un'ottantina di minuti a pulire tutto è una casa piena di ostacoli quindi non è soltanto la metratura ma è anche quanti ostacoli incontra in questo caso la mia casa è veramente piena di ostacoli in più c'è anche l'albero di natale tantissime altre cose che gli danno fastidio che io non ho spostato quindi gli ho fatto pulire esattamente con tutti gli ostacoli nel mezzo 80 minuti ma è tornato alla fine a pulire parti di casa anche molto lontane da dove era iniziato che però aveva tralasciato perché i suoi algoritmi avevano deciso così dovete quindi rispetto al robot di xiaomi fidarvi un pochino di più di quello che lui vuol fare visto che non vi fa vedere cosa ha già pulito e cosa deve ancora pulire ma per la mia impressione è che sostanzialmente abbia degli algoritmi diversi come vi dicevo all'inizio più lenti infatti ci mette un po di più a pulire la casa non la suddivide in riquadri così precisi come faceva il primo xiaomi ma torna a pulire tutto quindi veramente un buon prodotto anche una casa con tante stanze riesce a pulirla oltretutto in questi 80 minuti ha consumato un 50 per cento di energia questo vuol dire secondo le mie prove perché alla fine l'ho fatto girare più e più volte che il robot riesce a durare in sostanza circa 160 minuti ovvero più di più di due ore e mezzo e che è veramente veramente un buon risultato insomma un prodotto che mi ha veramente convinto quanto costa costa circa 250 euro su gearbest anzi un pochino meno di 250 euro che sono un bel po di soldi risparmiati rispetto al robot di xiaomi mettiamola così se siete le super nerd e volete tutte le statistiche forse il prodotto di xiaomi rimane il migliore ma questo xiaiowa o xiaowa non so neanche come pronunciarlo di roborock tra l'altro pienamente compatibile con la versione europea dell'applicazione di xiaomi ecco secondo me è veramente un ottimo candidato perché è molto concreto non offre magari molti fronzoli non offre la possibilità di mappare la casa di pulire solo una certa zona per esempio ma per il resto è un prodotto veramente molto molto ben fatto e estremamente completo per maggiori dettagli su questo xiaiowa e e 352 scusatemi ma questi nomi sono un po non scioglilingua per maggiori dettagli andate sul sito smartworld.it dove trovate la recensione completa per questa prova è tutto un saluto da emanuele cisotti per smartworld.it